interista a se pareggiavi mamma mia era una sciacura per te guarda bare palermo a fare uno sfotto che iniziava da oggi fino a capodanno del prossimo anno guarda perché doveva uscire questo video ti faccio guarda già l'avevo qui l'avevo proprio in mente faccio guarda guarda qualche pareggiate guarda guarda con dragon ball guarda 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 alibaba benito mussolini guarda guarda lupen la per lupen blum 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 tra picchino tutto il ricco la bicicletta poi c'è la come chiesto la come su che si chiama montero si che ho figlio di cosa di montero fatto una niente che è che su qua i meri si meri per sempre virginius si figlio di vinicius su qua come che ganvola ganvola manvola manvola boys 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 and we can sing it in the boys 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 everybody we can learn ah negli anni 80 sabina tu giuro ero pronto mi sono detto via questa devo uscire niente mi hai rovinato pure lo sfotto mi hai rovinato anche lo sfotto ecco il video di questa sera è questo mi hai rovinato anche lo sfotto young good boys a curva posa la boys young good boys zero inter uno turam siamo venuti fin qua siamo venuti fin qua per vedere segnale turam turam ora quello praticamente va a casa si mangia un gioccolato svizzero no lucky lucky no svizzero lo ha che non turam c'è niente di fare quattro hai capito che ha fatto turam comunque avete vinto vabbè comunque questa cosa avete una partita sofferta io non penso io ero convinto che anche le quote io ero convinto che l'interni andava lì diceva ci faccio quattro gol e invece è stata la partita sofferta Arnatovic là che che ricordo stai mangiando ma poi chi batte Arnatovic non c'è Taremi che più bravo a battere il ricordo che cazzo batte Arnatovic Arnatovic ha battuto il ricordo comunque le seconde vostre linee e qualità zero eh anche io la carlos acutis la carlos usiamo la e questo carlos non fa un cazzo ragazzi come si chiama carlos aspetta fammi ricorda carlos carlos acusto la il decimo condottiero di di roma la mamma mia un pacco proprio questo qua che fa se è abbottonato quello mi dispiace quello mi dispiace anche se manca con noi carlos acutis la carlos acusto che che schifio se ce ne fottano a noi quando giocate con noi leva leva turam leva barella leva lataro chi si doveva mancare e leva di marco questo e poi capito e non ci manca breme gruppo megas nico gonzalez a noi stai ce ne manca ovunque avete fatto il contrario di noi in che senso noi praticamente vedi senza gatti cambiasso vabbè buono casele ancora non l'aveva messo praticamente si ha messo questo secondo tempo ma noi va giocavo con Vlaucci per esempio con Stoccarda e poi praticamente Vlaucci vedi da sotto a tutti a tutti perché noi pensavamo all'Inter quindi l'Inter invece ovviamente c'è Juventus mettere il secondo ring giustamente con Young Boys però la partita era ormai in bilico e giustamente poi nel secondo tempo ha dovuto mettere per forza per battere un misero Young Boys senza che ha dovuto mettere i titolari perché alla fine voi questa partita l'avete vinta con i titolari senza i titolari voi guarda al momento è stato per perdere perché quella che vuole prende il palo guarda il palo ha preso quello guarda di che culo rotto poi c'è fu caccio di rigore che non per me non era caccio di rigore caccio di rigore che aveva notato addirittura parata chiamare a Varrari c'è aspetta che magari sono entrati un po' di giocatori c'è proprio vanno a fare aiutare fino all'ultima pure in Europa l'aiutino un pochettino dai un pochettino ammette ammette io con queste certe cose solo di voi ripeto di me non vedo mai un cazzo almeno in questi quattro anni ora vedo cose strane sembra l'aiutino il rigorico il rigorino guarda pure pure all'interino in europino comunque l'interista ora è contento perché alla fine con te lo sottato però è sofferto è sofferto come un cane con lo young boys ripeto usciva uno sfottò oltre questo no ti dicevo tu mi sfottò a me con lo stoccarda decimo posto hai perso io ti diceva e tu hai pareggiato con lo young boys alla decima posizione del campionato svizzero vedi questo tipo di sfottò dovevo uscire e niente interista mi hai rovinato veramente mi hai rovinato lo sfottò non c'è fu un cazzo da fare però onestamente mettiti in guardia con noi perché se questo è l'inter non sarà questa l'inter perché capisco che poi ci sono i dollari ma onestamente a voi pure se mi mancano i dollari siete finiti a noi alla fine ci abbiamo preso lo stoccato ne manca i dollari vedi vedi voi seconda linea avete il problema di battere un good boys quindi ripeto i personaggi chiave servono sempre a noi manca brema ripeto leva la taro tutto l'anno e poi vediamo se vince volevo leva tu ram tutto l'anno capite ma è così e la taro tu ram barella e di marco questi quattro ci devono essere come il pane a voi oltre c'è una logo chi sei quasi personaggi chiave personaggi chiave ricordalo sempre e adesso a noi ci mancano i personaggi chiave vabbè come cosa è questa questa vittoria c'è scavraggio che è un campionato a sé lì anche in champion c'è scavraggato sei un punto sopra tu sei tra che sei al settimo posto la ora e noi purtroppo siamo la dodici dodicesimo posto diciamo a un punto ce ne abbiamo ma vediamo la prossima noi ci chiamo ora colill e voli batti ora la trego madrid e la perdiamo lo so che perdiamo e voi giocate con l'arsan in casa ma con l'arsan pure tosta attenzione capace perdiamo noi e perdete pure voi va bene comunque ci vediamo quando domenica sera perché sono già in tensione derby d'italia in tre e io vendoci va bene ciao va